La verità rende liberi. Le dittature, tutte le dittature, falsano la storia, manipolando la memoria nel tentativo di imporre la verità di Stato. La nostra Repubblica trova nella verità e nella libertà i suoi fondamenti e non ha avuto timore di scavare anche nella storia italiana per riconoscere omissioni, errori o colpe. La complessità delle vicende che si isolsero in quegli anni terribili, in quei territori di confine, la politica brutalmente antislava, perseguita dal regime fascista, sono eventi storici che nessuno oggi può mettere in discussione. Va altresi detto confermezza, che è singolare e incomprensibile che quegli aspetti innegabili possono mettere in ombra le dure sofferenze patite da tanti italiani, o, ancora peggio, essere invocati per sminuire, negare o addirittura giustificare i crimini da essi subiti. Per molte vittime giustiziate, infoibate o morte distenti nei campi di prigionia comunisti, l'unica colpa fu semplicemente quella di essere italiani. Buongiorno a quanti ci stanno seguendo, in modo particolare ai ragazzi delle scuole. Oggi è il giorno del ricordo, il 10 di febbraio. È stato scelto vent'anni fa dal Parlamento italiano, quasi all'unanimità, per ricordare il tributo di dolore e di sangue che le popolazioni istriane, dalmate, hanno dato appunto alla storia, le foibe, l'esodo, dove migliaia di italiani sono stati uccisi in maniera barbara e centinaia di migliaia di italiani hanno dovuto lasciare le loro case e abbandonare dietro di sé qualsiasi cosa. 20 anni fa, quindi, è stato istituito questo giorno, che noi celebriamo quest'oggi, però i fatti sono successi 80 anni fa, quindi 60 anni di silenzio. È una memoria, quindi, che va ricostruita e difesa. Fortunatamente ci sono anche delle associazioni che difendono questa memoria e noi siamo qui con il dottor Bruno Bonetti, che è proprio il vicepresidente del Comitato di Udine dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, un'associazione sorta ancora nel 1947. Ma, dottor Bonetti, di che cosa si occupa in sostanza? Questa associazione è nata con lo scopo di offrire assistenza ai profughi nell'immediato dopoguerra. Purtroppo, per motivi anagrafici, molti di questi profughi non ci sono più. Noi, che siamo i discendenti degli esuli, cerchiamo di portare avanti la memoria della civiltà italiana dell'altra sponda dell'Adriatico, di custodire la memoria e di promuovere le politiche della pace perché non si ripetano più gli errori e gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Questo è lo scopo. Ecco, noi negli anni scorsi ci siamo occupati soprattutto dell'Istria, anche perché avevamo a disposizione molte persone che erano esuli istriani, che ci potevano raccontare la loro esperienza. Questa volta invece il focus è sulla Dalmazia, che significa il litorale orientale dell'Adriatico, diciamo da Zara a Spalato fino ai confini con il Montenegro, Zara, città italiana, veneziana in particolare per più di otto secoli, Spalato, patria dell'imperatore Diocleziano, e quindi terre di antica, antichissima, addirittura vocazione italiana. E diciamo che gli italiani della Dalmazia, dottor Bonetti, hanno dovuto subire vessazioni storiche ben prima degli istriani, insomma già durante l'impero austro-ungarico. Sì, se fino all'unità d'Italia la coesistenza tra italiani e croati, e anche serbi, che erano un'altra componente in Dalmazia, era pacifica, quando l'Italia si unisce e soprattutto quando nel 1866 anche il Veneto entra a far parte dell'Italia, questo viene percepito come una minaccia da Francesco Giuseppe e dall'amministrazione austriaca. Contemporaneamente gli italiani, che in Dalmazia erano una minoranza, ma che comunque costituivano la parte più avanzata e che detenevano tutti i mezzi industriali, le professioni e il potere politico, piano piano cominciano a perdere questo potere. In particolare un evento significativo è quello della fine dell'amministrazione italiana di Spalato con una caduta del sindaco Baiamonti, che aveva governato Spalato dal 1860 al 1880. Con una frase che sarà profetica, Baiamonti dirà a noi italiani di Dalmazia non resta che soffrire. E appena lui cade, nel 1881, viene incendiato, probabilmente per motivi dolosi, il teatro italiano di Spalato verrà ricostruito qualche anno dopo come teatro nazionale croato. Nel 1883, dopo che per 600 anni tutte le amministrazioni e le scuole erano in italiano, viene proclamato il croato come lingua ufficiale in Dalmazia. mio nonno, che era del 1879, si trova improvvisamente a dover frequentare, lui che era abituato a parlare italiano o dialetto veneto in famiglia, le scuole croate, cosa che viene percepita come una violenza. Il nonno parteciperà anche ai moti per un'università italiana, perché ricordiamo che anche dopo che viene preso il Veneto, Gorizia, Trieste, Trento, e naturalmente Pola, Fiume e Zara, restano a far parte dell'Austria, e gli studenti, come mio nonno, devono andare fino a Vienna, perché non esiste un'università italiana. E quindi mio nonno protesta e viene espulso dall'università di Vienna e dovrà continuare l'università Graz. Un anno prima, nel 1899, il nonno subisce un'aggressione e viene picchiato gravemente dai militanti croati, probabilmente anche gli italiani ci mettevano del loro, ma comunque da un clima che era stato sereno fino ad allora, improvvisamente si creano delle tensioni e la parte italiana che minoritaria vive una situazione sempre meno sicura. Nel 1910 viene aggredito lo zio, nel 1909, quando il nonno è già impiegato presso l'amministrazione postale, viene adottata l'ordinanza della soluzione della lingua, che sembra quasi una soluzione finale, nel senso che viene bandito l'italiano dalle scuole, dalle amministrazioni di ogni ordine e grado. Non resta più nemmeno un'isola di italianità in Dalmazia. È chiaro che a questo punto la popolazione italiana si sente, dopo che era stata per secoli, insomma, non dico padrone a casa sua, ma insomma era vissuta serenamente. E diciamo che siamo sempre sotto l'impero austro-ungarico. Sempre sotto l'impero austro-ungarico, si sentono come degli estrani a casa loro. Quindi veniva privilegiata la parte croata rispetto a quella italiana. Per quali motivi? Perché veniva considerata più fedele all'impero rispetto alla parte italiana che poteva legarsi al regno italiano e quindi essere un nemico per l'Austria-Ungheria. E poi si arriva al grande ribaltone, alla svolta della Prima Guerra Mondiale. Qui cosa cambia per gli italiani della Dalmazia? Beh, qui intanto c'è la famosa nicchia mutilata. Con il patto di Londra dell'aprile... Diciamo la vittoria, per quelli che non studiano greco, insomma, la vittoria mutilata. La vittoria mutilata. L'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale con la promessa da parte delle potenze dell'intesa la Francia e l'Inghilterra, con il patto di Londra dell'aprile 1915, di essere assegnataria, oltre che di Trieste, di Trento e dell'Istria, anche della Dalmazia settentrionale, cioè Zara, Sebenico e delle isole. Tuttavia, questa promessa viene tradita all'indomani della fine della Guerra Mondiale e con la pace di Rapallo del 1920, solamente Zara, la città di Zara a grande fatica, entrerà nel Regno d'Italia, mentre il resto della Dalmazia resta fuori. La situazione per gli italiani di Dalmazia è tragica. Di solito si parla degli esoli alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma c'è un primo esodo poco conosciuto alla fine della Prima Guerra Mondiale. Molto poco conosciuto, come anche il resto, peraltro, però questo veramente sconosciuto. La sorella di mio nonno, per esempio, che aveva sposato un dottore di Lesina, Vincenza Fabiani, questo medico nel 1914 viene internato nella fortezza di Bilek in Bosnia perché viene considerato pericoloso, siccome si era candidato con il partito autonomista alle elezioni prima della guerra. Gli italiani di Lesina, dell'isola di Lesina, sono costretti a fuggire, a lasciare le case per un decimo del loro valore. Così, da Sebbenico, ci sarà un esodo in nave che ricorda molto quello ben più conosciuto da Pola alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Queste persone che devono lasciare, ma ce ne sono tante, io potrei citare anche i Damiani che fuggono da Curzole, vengono a Lussino e poi a Udine, una famiglia importante di Udine, il giornalista Lucio Damiani. Il mio amico Lucio Damiani, povero scomparso qualche anno fa, che veniva di lì proprio. Queste persone, come mia zia, si trovano magari a vent'anni a dover fuggire, lasciare la casa, la professione e tutto quanto una prima volta nel 1920 e poi magari finiti a Zara, a Lussino, a Pola, ad affrontare un secondo esodo a 40-45 anni e una nuova volta a perdere tutto. Quindi i dalmati sono stati due volte esoli, che è stata veramente una tragedia. Ecco, si parla spesso della violenza fascista nei confronti della popolazione slava durante il ventennio e quindi l'italianizzazione forzata, il cambio di cognomi, il divieto di parlare le loro lingue, però tutto questo, quindi, già gli italiani l'avevano dovuto sopportare precedentemente. Infatti la mia famiglia lo prova di persona. Alla fine della Prima Guerra Mondiale in Dalmazia si chiudono le scuole e le associazioni italiane. Oltretutto il Trattato di Rapallo prevede la possibilità di mantenere la cittadinanza italiana. Però per chi si professa italiano, a Spalato e nelle isole, non può più professare la professione di avvocato, di medico, di ingegnere. Le proprietà sono costrette a cedere. Cito il caso abbastanza famoso della Gilardi e Bettiza, la più importante industria della Dalmazia. Il cementificio di proprietà dei Gilardi, che se ne vanno a Zara e da lì poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, saranno esoli a Fertilia in Sardegna. I Bettiza devono vendere alla famiglia Croata Feric nei primi anni 30, la proprietà del cementificio. Conosciamo tutti la figura di Enzo Bettiza, che era il figlio dell'industriale. La cugina di mio papà Anna, da Bonetti, per esempio, sposa un ingegnere che lavora alla Sufid, ad Almissa, la società per lo sfruttamento delle risorse idrauliche della Dalmazia. L'ingegnere, suo marito, viene licenziato perché italiano e sono costretti a scappare in Italia. Nel 1928, quando imperversano le lotte tra serbi e croati nel regno serbo-croato-sloveno, che poi diventa Jugoslavia, i miliziani dell'Oriuna, l'organizzazione nazionalista jugoslava, sfondano le vetrine dei negozi italiani di Spalato. Quindi la vita è sempre più difficile. Nel 1932 vengono abbattuti, scalpellati, fatti saltare col tritolo i leoni di Traú, Troghir, tra cui anche il leone della loggia pubblica che era un'opera d'arte del Rinascimento. E sappiamo che anche a Traú c'erano tanti italiani, cito un solo nome, Maria Carmen Nutrizio, che poi sposa un tedesco, Schen, e sarà Mila Schen, la famosa stilista che è morta pochi anni fa. E questo è il motivo per cui poi molti italiani si professano jugoslavi. Per esempio, il cugino di mio papà, Piero Bonetti, diventa croato proprio per poter continuare la sua professione di avvocato. Che si dichiara croato. Si dichiara croato. Infatti, i primi due sindaci serbo-croato-sloveni di Spalato sono Ivo Tartaglia, che sarà sindaco dal 18 al 28. Tartaglia è una famiglia italiana secolare di Spalato. Gli succederà a Piero Bonetti, il cugino di mio nonno, che anche lui in famiglia parlava dialetto veneto. Questo per dire come poi si perda l'italianità non solo a seguito degli esodi, ma anche a seguito del fatto che molti italiani sono costretti a dichiararsi croati pur di continuare a fare la loro attività professionale. Lei ci sta spiegando delle cose e ci disegna un panorama che noi abbiamo celebrato da pochi giorni, il giorno della memoria, ma ci fa venire in mente uno scenario già visto, anzi che sarebbe stato visto più avanti quando a queste vessazioni venivano sottoposti gli ebrei, che non potevano più lavorare in quanto ebrei, quindi gli italiani hanno già sperimentato questo tipo di violenza. Di fatto sarebbe improprio un paragone con le leggi razziali, però il fatto di essere privati delle professioni, delle scuole, della libertà di associazione, quantomeno quello che succedeva ai croati e agli sloveni in Istria, forse a livelli ancora peggiori succedeva agli italiani di Dalmazia. E ripeto, tutti conoscono le vicende susseguenti alla Seconda Guerra Mondiale, ma pochi ricordano purtroppo il primo esodo e le vessazioni nei confronti degli italiani di Dalmazia. Ecco, la questione dei nomi, per esempio, lei ha detto prima Lesina e anche se mi dispiace dirlo, mi tocca dire per coloro magari che sono abituati ad andare in Jugoslavia nella ex Jugoslavia in turismo, che Lesina è l'isola di Khabar. Quello è. Esatto, beh, purtroppo molte persone vanno in vacanza in questi posti e mi raccontano di essere stati a Rieca, a Zadar, a Dubrovnik e dimenticano che lì c'erano famiglie italiane e molti dei miei antenati erano di quei posti. La mia bisnonna era di Sebenico, molti antenati erano di Trau, per esempio, il beato Agostino Casotti, il cui ritratto si trova nella chiesa di San Nicolò Treviso era uno dei miei antenati. Suo fratello era un mio bis 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 nonno e parliamo del 200. La presenza italiana in Dalmazia non era quella di persone che erano arrivate lì con il fascismo, come purtroppo certa storiografia croata dice. La famiglia Tartaglia era dal 1200 presente, attestata a Spalato. La mia trisavola Benedetti, per esempio, si trovava con la sua famiglia dal 400 a Spalato. Ho trovato personalmente nell'archivio di Stato di Spalato il conferimento della cittadinanza al mio avo appunto nel 400. Questo per dire che non eravamo degli intrusi, anzi, semmai gran parte della popolazione attuale di Spalato invece è venuta dopo la Seconda Guerra Mondiale dalla Bosnia, dal Montenegro, gli stessi cittadini spalatini di antica tradizione li considerano un po' degli estranei mentre gli italiani di Spalato, gli italiani di Sebenico, gli italiani di Veglia avevano una presenza consolidata e secolare che è stata purtroppo tragicamente tranciata dalle vicende storiche che abbiamo citato prima. Era per questo che dicevo perché magari si presume erroneamente che i nomi attuali di quelle località siano quelli originali per cui Dubrovnik avrebbe ripreso il nome antico invece il nome antico di Dubrovnik era Gusa insomma, no? Come pure per gli altri gli altri paesi della costa. Ma naturalmente nessuno vuole mettere in discussione la presenza croata così come quella delle altre etnie. Il discorso che facciamo noi dell'associazione è quella che si poteva tranquillamente convivere e restare tutti quanti insieme in pace. Se pensiamo per esempio vorrei fare un esempio un po' dissacrante in Friuli la maggior parte della popolazione è friulanofona però si parla italiano io credo che nessuno uno avrebbe preso per un pazzo se si pensasse a uccidersi a escludere o ad ammazzarsi perché uno parla friulano un altro parla italiano un altro parla medico penso che si possa io lavoro a Tarcento dove si parla tranquillamente friulano e credo che nessuno salterebbe in mente di fare delle delle guerre etniche per questo motivo. Sì ovviamente non lo diciamo per sciovinismo per nazionalismo o altro ma è una realtà storica insomma e quindi è opportuno sapere come sono andate le cose. Ecco con questi discorsi siamo andati indietro giustamente con la storia e però la giornata del ricordo dal punto di vista istituzionale è relativa ai fatti della seconda guerra mondiale della fine della seconda guerra mondiale e soprattutto insomma è inutile girarci intorno sulle responsabilità delle milizie titine per prima per le foibe e poi anche per questo esodo obbligato o meno ma comunque originato dalla violenza dalla volontà di di questo partito in sostanza perché in sostanza era il partito comunista jugoslavo che si andava costituendo come regime e gli italiani se ne sono partiti da da Pola da Zara da altri luoghi in forme diverse anche da fiume insomma no cosa ci può dire da questo punto di vista questi 350.000 italiani che sono venuti via da quelle terre quando e in quali situazioni perché per esempio il giorno del ricordo è il 10 di febbraio lo ricordiamo perché il 10 di febbraio del 47 c'è stata la firma della pace di Parigi in cui quelle terre venivano assegnate alla Jugoslavia e quindi molti altri cittadini italiani hanno dovuto venire via in più rispetto a quelli che erano già venuti via prima intanto io vorrei dire una cosa tutti quanti hanno davanti agli occhi le immagini del Toscana il piroscafo che partiva da Pola o le immagini di magazzino 18 il magazzino di Trieste dove sono stati accatastati le masserizie i beni il pianoforte degli esuli ecco intanto queste immagini vorrei dire che sono false e non vorrei creare scandalo per questo ma dobbiamo ricordare che da Pola si scappava sotto l'amministrazione angloamericana Pola era rimasta era rimasta a far parte diciamo della zona A dell'amministrazione angloamericana dalle restanti parti dove invece c'erano i partigiani comunisti non si partiva potendo portare via i mobili e la situazione era ben diversa e quindi vorrei ricordare quali erano le condizioni reali di Zara e della Dalmazia facendo proprio affidamento ai ricordi che mi sono stati tramandati dalle mie prozie il nonno purtroppo morì di cancro prematuramente per cui si spense tra la prima e la seconda guerra mondiale restarono a Zara le mie zie tra cui quella che avevo detto era già scappata da Lesina nel 1920 intanto a Zara nell'autunno del 1943 comincia una serie di bombardamenti terribili che distruggono l'80% degli edifici della città sono bombardamenti angloamericani bombardamenti angloamericani sollecitati però dal maresciallo Tito che suggerisce agli americani che Zara è una importante base militare ora Zara era una città che aveva un porto come quello di Chioggia per intenderci non era certo una base militare ma Tito molto furbescamente anche se la questione è dibattuta storicamente ma insomma è altamente probabile che sia così Tito suggerisce che ci siano significative presenze militari proprio perché Zara essendo l'unica città italiana che era rimasta l'Italia dopo la prima guerra mondiale doveva essere distrutta per cancellare ogni traccia ogni pretese di italianità sull'Adriatico orientale questi bombardamenti sono una cosa terribile se vedete le immagini io invito tutti quanti ad andare su internet ci sono dei filmati e delle fotografie agghiaccianti c'è anche il libro Venero dal cielo scritto da Odone Talpo con Sergio Burcic che riporta un abbondante corredo fotografico la città è ridotta come Hiroshima tanto per intenderci il marito di mia zia Amato Filippi che era uno stimato latinista era il preside del liceo di Zara è costretto a dormire all'adiaccio e muore di broncopolmonite dopo che la casa viene rasa al suolo così molti altri zaratini fanno una bruttissima fine tra l'altro la città è accerchiata c'è l'amministrazione di Ante Pavelic degli Ustascia che circonda Zara che non lascia passare nemmeno il cibo poi ci sono i partigiani che stanno arrivando la situazione è veramente tragica per Zara fa la spola il piroscafo Sansego che parte una volta alla settimana come appunto diceva il Toscana da Pola da Zara parte il Sansego ma come parte? mia zia raccontava la situazione è partita all'inizio del 44 con il piroscafo che viaggiava a luci spente di notte per non farsi bombardare quando la zia arriva al porto porta una valigia dopo che la casa era crollata e dormivano in strada con gli unici oggetti che era riuscita a salvare le fotografie e i gioielli la valigia gliela fanno lasciare a terra perché non c'è spazio il piroscafo è talmente pieno che ha penso 5 volte la capienza regolamentare un po' come i barconi che arrivano adesso dalla Tunisia come la nave che arrivava dall'Albania insomma anni fa esatto esatto fanno uno scalo a Pola e dormono in una palestra se non sbaglio dotati solo di qualche coperta e lì scoprono di aver preso la scabbia la zia arriva a Marghera dove viene anche insultata dagli operai perché considerano i profughi fascisti questa è una zia le altre zie finiscono una a Milano una a Roma e una a Venezia quindi la mia famiglia adesso i cugini io li vedo che sono un po' sparpagliati per tutta l'Italia la diaspora insomma ad Almata e poi ci sono appunto quelli come Piero Bonetti che era stato sindaco di Spallato i miei cugini con cui ancora adesso abbiamo ottimi rapporti che sono croati si sentono croati e sono rimasti di là ma sono sono Bonetti come noi quindi le famiglie completamente distrutte cosa succede a chi resta? intanto il piroscofo Sansego poi viene anche bombardato dalla riva e viene affondato nel maggio del 44 dai partigiani Titini a largo di Lussino Zara dal maggio 44 viene completamente isolata cioè se uno sta male non c'è un ospedale non ci sono medicine non c'è cibo e come sapete poi a fine ottobre primi giorni di novembre del 44 arrivano i partigiani cosa succede quando arrivano i partigiani? ci sono le foibbe azzurre cioè centinaia di zarattini vengono annegati alcuni avevano delle responsabilità con il regime fascista ma altri per il semplice fatto di essere degli impiegati comunali dei maestri per esempio a Spalato il preside del liceo italiano viene marchiato a fuoco con la stella rossa e poi viene ucciso e così tantissima altra gente tutti i carabinieri ovviamente vengono vengono fatti fuori i Luxardo che sono miei cugini i proprietari dello stabilimento Luxardo parliamo tra l'altro i ragazzi del Veneto credo che conoscano la Luxardo di Torreglia la distilleria i Luxardo sono tre fratelli uno è Nicolò che si era ruolato volontario nella prima guerra mondiale rimane a Zara viene imbarcato con la moglie su una scialuppa e viene buttato a mare gli premono la testa con i remi sotto acqua fino a farli annegare se lui come industriale e come politico poteva avere delle responsabilità quali responsabilità aveva sua moglie che viene annegata con lui l'altro fratello Pietro è il depositario della banca d'Italia di Zara consegna le chiavi ai partigiani comunisti croati lascia la cassa insomma dei soldi di Zara però viene deportato e non si sa più che fine abbia fatto il terzo fratello Giorgio era andato proprio vicino a Padova a Torreglia a vedere dove eventualmente crescevano bene le marasche le ciliegie per fare il famoso maraschino destillato e riesce a salvarsi da quello che poi darà continuità all'azienda questo per dire quello che succede ai miei cugini ma poi ci sono tantissimi altri casi del genere quindi situazione veramente tragica potrei citare anche il caso di Antonio Catalini che era il papà del nostro presidente storico dell'associazione Venezia Giulia Dalmazia di Udine Antonio Catalini era il nostro dirimpettaio noi bonetti abitavamo nell'ultima casa di un quartiere chiamato Cereria poi c'era un piccolo braccio di mare dall'altra parte c'era il quartiere di Barcagno dove c'era lo squero dei Catalini i Catalini erano costruttori di navi ma insomma piccoli costruttori uno squero come quelli di Venezia sì Catalini viene considerato un capitalista e pertanto forse anche su dell'azione dei suoi impiegati dei suoi operai viene incarcerato e passa parecchi anni in carcere ritorna negli anni 50 finalmente in Italia dove il figlio si stabilirà a Udine appunto diventerà il presidente della nostra associazione ecco questo secondo me è un gesto bellissimo lui quando a fine anni 50 primi anni 60 dopo aver patito il carcere di Lepoglava che era uno dei carceri più duri dove morivano tantissime persone quando finalmente può ritornare in Jugoslavia lui invita a pranzo tutti i suoi ex dipendenti gli offre un pranzo nonostante sappia che tra di loro sicuramente ci sia anche qualcuno che lo ha tradito e ha fatto da delatore credo che questo sia un bel messaggio di pace che rappresenti un po' lo spirito della nostra associazione ecco in questo disegno anche complesso insomma della fine della seconda guerra mondiale lei ha parlato anche di Ante Pavelic anche questo è un personaggio che non è molto conosciuto compresa la sua milizia degli Ustasha chi erano in realtà? gli Ustasha erano una milizia nazionalista croata i croati mal sopportavano il regno dei Karageorgevici il regno jugoslavo perché era un regno a direzione serba gli Ustasha però si distinguono per la loro violenza e la loro intransigenza vengono finanziati da Mussolini perché Mussolini fa comodo creare divisione all'interno della Jugoslavia per poter insinuarsi all'interno della Jugoslavia approfittando appunto di queste divisioni Ante Pavelic è responsabile dell'assassinio di re Alessandro di Jugoslavia nel 1934 a Marsiglia con la seconda guerra mondiale viene costituito il regno indipendente di Croazia che si caratterizzerà proprio per le violenze e per le stragi di serbi effettuate al suo interno Mussolini crede di avere in Pavelic un alleato in realtà Pavelic sarà uno dei nemici degli italiani di Dalmazia perché pretenderà di appunto di acquisire la Dalmazia e di cacciare qui pochi italiani che c'erano rimasti in particolare le sue mire sono su Zara che come dicevo vede una situazione terribile perché bombardata dagli americani circondata dai fascisti Ustascia assediata dai partigiani comunisti potete immaginare voi la situazione qual era dobbiamo appunto ricordare che in questo contesto storico noi ricordiamo ovviamente le centinaia e migliaia di vittime che sono anche forse con grande maggioranza di popolazioni slave all'interno di questo contesto non sono stati solamente gli italiani a subire la violenza di questi momenti certo infatti c'è anche una polemica alcuni storici dicono che non c'è stata pulizia etnica nei confronti degli italiani in Istria e in Dalmazia perché di fatto la violenza esercitata dal regime comunista era contro i nemici del regime non contro gli italiani in quanto italiani anche se di fatto al regime comunista andava bene avere una piccolissima minoranza di italiani che fossero consenzienti e però di cacciare la stragrande maggioranza degli italiani certo che le violenze non sono dirette solamente nei confronti degli italiani sono dirette nei confronti di tutti quelli che potevano essere pericolosi per il sistema titino e quindi anche ci sono quindi ci sarebbero le premesse insomma per una sorta di memoria condivisa tra Italia Slovenia Croazia su queste cose anche se ancora mi pare che non ci sia arrivati a una puntuale ricostruzione storica condivisa da entrambe le parti purtroppo no ci sono ancora delle differenze l'importante secondo me non dimenticare perché non bisogna dimenticare ma nemmeno alimentare i nazionalismi gli opposti nazionalismi questa è la vera risposta che bisogna dare infatti questa Gorizia città europea della cultura di qua e di là del confine dovrebbe essere un segnale importante anche per superare questi questi ricordi insomma che però per quel che riguarda proprio noi italiani dicevo all'inizio che la giornata del ricordo è stata istituita ben 60 anni dopo questi fatti e in questi lunghi decenni questi avvenimenti sono stati sottaciuti probabilmente per questioni geopolitiche di rapporti con regime titino o altro però un po' alla volta insomma la verità è emersa ricordo che solamente nel novembre del 1991 il presidente della Repubblica Italiano Cossiga andò brevemente a inginocchiarsi sulla foiba di Basovizza anche in termini personali neanche istituzionali però già quello fu un'apertura al ricordo di quei fatti e mi piace ricordare invece proprio l'anno scorso il discorso per il giorno del ricordo del presidente Mattarella il quale senza mezzi termini e in maniera assolutamente esplicita ha parlato prima del dramma di queste popolazioni che rischiavano di passare da un regime totalitario che era quello fascista a un altro regime totalitario che era quello comunista ma ha parlato appunto esplicitamente di pulizia etnica lei pensa che questo termine sia debba essere bandito o si possa parlare di vera e propria pulizia etnica dato che poi nei fatti sono stati gli italiani insomma quelli che sono stati uccisi e cacciati da questi luoghi ma io credo di poter esprimere un parere non dico autorevole ma quantomeno informato perché la sorella di mio papà mia zia è vissuta a Spalato fino agli anni 70 la nonna è morta a Spalato proprio nel 1970 quindi i miei parenti hanno continuato a vivere di là e io ho sempre avuto delle informazioni dirette di quello che succedeva mio cugino mio papà l'ha potuto rivedere solamente negli anni 60 perché negli anni 50 non c'era proprio la possibilità di uscire dalla Jugoslavia e senza fare della filosofia vorrei citare magari qualche esempio concreto ricordando per esempio come a Sebenico nel 47 venga abbattuta la statua di Tomaseo Tomaseo come sapete era un estimatore della cultura croata a Zara viene leggermente danneggiato il teatro Verdi che era un simbolo di italianità quando all'assessore del comune di Zara nell'immediato dopoguerra propongono di ristrutturarlo lui dice no si è abbattuto perché non deve restare più un vestigio italiano la fontana di Baiamonti che abbiamo citato prima Baiamonti è il grande sindaco di Spalato che dal 1860 al 1880 edifica la riva il porto le procuratie e porta l'acquedotto a Spalato come simbolo dell'arrivo dell'acquedotto fa una bellissima fontana che ancora adesso se leggete i giornali di Spalato sulla bodena d'Almazia c'è una proposta per ricostituirla questa fontana viene fatta saltare col tritolo nel 1947 come simbolo dell'amministrazione italiana di Baiamonti della fine dell'Ottocento la tomba di Baiamonti si trovava nel cimitero di Santo Stefano di Spalato cimitero di Santo Stefano che era bellissimo perché aveva tutte le tombe monumentali era sulla riva sul mare era considerato il più bel cimitero d'Europa nel 1959 viene deciso la sua distruzione ma una distruzione veramente tragica ci sono le fotografie che lo testimoniano nel senso che con i bulldozer i cadaveri i resti mortali vengono buttati a mare le inferiate in stile Art Nouveau vengono fuse e vendute il ferro a peso e questo un po' per incuria ma un po' anche per disprezzo verso la componente italiana il tutto per far spazio a un albergo che sarebbe stato il solito cubo di cemento che avrebbe deturpato la riva ecco questo per fare degli esempi e forse l'esempio più significativo sono le parole del poeta Vladimir Nasor che scrive lo cito testualmente spazzeremo dal nostro territorio le pietre della torre nemica distrutta e le getteremo nel mare profondo dell'oblio al posto di Zara distrutta sorgerà la nuova Zadar che sarà la nostra vedetta sull'Adriatico questo era l'atteggiamento nei confronti della secolare civiltà italiana questo è stato quello che hanno vissuto i pochissimi italiani rimasti in Dalmazia nel dopoguerra questo è quello che hanno vissuto mia zia e i miei parenti che sono rimasti di là lascio a voi il giudizio se si sia trattato per capire che il termine che ha usato Mattarella di pulizia etnica sia pienamente giustificato insomma una forte componente di anti-italianità c'era al di là delle polemiche o delle propagande che si potevano fare poi ecco noi stiamo trasmettendo dalla abitazione del dottor Bonetti che ci ha ospitato qui a Udine e mentre parliamo possono scorrere delle immagini di alcuni luoghi toppici dell'esodo istriano ed almata quali sono questi luoghi qui a Udine che stiamo vedendo dottor Bonetti beh a Udine ci sono numerosi luoghi intanto il centro profughi di Udine dove sono stati registrati oltre 100.000 esuli naturalmente di passaggio che in attesa di essere smistati verso gli altri campi in tutta Italia 100.000 quelli registrati poi ovviamente si devono aggiungere l'anno scorso voi avete intervistato Giorgio Gorlato lui è stato ospite di parenti non rientrava fra quei 100.000 eppure anche lui era esule questo perché Udine era la prima città italiana quando Trieste faceva ancora parte c'era ancora sotto occupazione angloamericana poi un altro luogo importante è il monumento ai martiri delle foibe ed è la cosa più bella secondo me è che è stato costruito dopo che per anni si parlava di fare questo monumento sotto l'amministrazione del sindaco Honsel che grazie al dialogo ex rettore dell'università persona di grande sensibilità e che ha avuto il merito di ascoltare le richieste del nostro presidente Silvio Catalini e di edificare quando tutte le amministrazioni precedenti erano esitanti questo monumento che ricorda appunto i 300.000 esuli e i 10.000 morti nelle foibe dopo i numeri si può parlare di 350.000 di 250.000 ma non è lì la differenza il dramma insomma di una regione italiana che è venuta a mancare e a questi ovviamente poi si aggiungono altri posti ci sono gli esuli che hanno dormito sulle tombe del Tempio Sario perché non c'era altro posto dove dormire sono stati messi con una coperta sopra le tombe dei soldati della prima guerra mondiale ci sarebbe naturalmente da fare una trasmissione solo per raccontare le vicende degli esuli che noi abbiamo nel nostro direttivo ci sono persone come Giorgio Gorlato che ha avuto il papà scomparso anche se aveva aiutato i partigiani del CLN abbiamo Bruna Travaglia che ha avuto ben quattro diretti familiari che sono stati infloibati ma non vorrei fare torto agli altri perché conosciamo anche noi molte persone che vivono nel nostro territorio che hanno questo passato insomma e che si sono pienamente integrati che però quando c'è da raccontare raccontano i fatti della loro della loro famiglia ecco quindi anche questo panorama che ci ha aperto adesso ci rimanda a situazioni anche attuali insomma con il discorso dei profughi il discorso dei migranti per cui anche gli italiani che arrivavano dall'Istria sì noi conosciamo molti che sono andati presso parenti che ci sono subito accasati in qualche modo ma molti altri arrivavano senza avere più niente insomma quindi quali erano le organizzazioni che riuscivano a dare una risposta a queste esigenze in questo clima che lei lo ha citato anche prima un po' di passaggio di questo sospetto nei confronti di queste persone di essere dei fascisti perché non si adeguavano a restare sotto il regime titino i fatti di Livorno i fatti di tante altre parti in cui non si voleva neppure aiutarli a sbarcare le valigie che avevano qui a Udine in particolare che cosa è successo in quei giorni beh a Udine c'è stata la presenza dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia che come dicevo prima era nata anzitutto per dare proprio una sistemazione materiale agli esoli poi le sistemazioni sono state le più incredibili dal villaggio metallico ai campi profughi come ricordavo prima alle tombe del Tempio Sario ci sarebbe da raccontare veramente tantissimo il nostro professore Elio Varutti del direttivo dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia di Udine ha scritto vari libri in cui raccoglie questi episodi e sono libri pieni di umanità in particolare di recente lui ha scritto un libro sul campo profughi di Laterina in provincia di Arezzo e tutti quanti noi ci eravamo chiesti in fin dei conti che cosa interessasse a noi di Udine questo libro quando siamo andati alla presentazione a Laterina che è questo paesino molto bello e piccolino vicino ad Arezzo siamo stati colpiti dal coinvolgimento della popolazione che ci fermava ci chiedeva ci raccontava le loro storie e alla presentazione che si è svolta in questo bellissimo teatro sono state rievocate degli episodi incredibili il sospetto dei toscani che notoriamente comunisti vedevano male gli istriani come profughi questo campo che era messo nei terreni paludosi vicino all'Arno dove stavano insomma nel fango fino alle ginocchia e le donne istriane abituate al mare che si spogliavano e facevano il bagno dell'Arno e venivano viste dai toscani come delle donne di facili costumi quando veniva offerto qualche posto di lavoro agli esuli ah ecco loro ci rubano i posti di lavoro e la storia bella è che questi episodi di fastidio e di intolleranza sono culminati perfino col fatto che nel rancio che veniva servito a questi poveri esuli in queste baracche dove morivano di freddo alcuni cittadini di Laterina hanno messo delle sostanze purganti hanno costretto tutti quanti gli esuli a correre i bagni a stare male per un giorno poi però con il passare del tempo si sono accorti che queste persone questi estriani lavoravano che erano delle brave persone il farmacista si è commosso nei confronti dei bambini che soffrivano di pertosse di malattie e gli dava le medicine gratis il cartolaio del paese dava gratis i quaderni e i libri a questi studenti hanno cominciato a fidanzarsi queste belle istriane con i toscani e insomma ne è nata un'integrazione e la storia è veramente bella perché poi l'abbiamo potuta constatare di persona io e la presidente siamo andati appunto alla Terina in visita a vedere la presentazione del libro e abbiamo constatato che tutto il paese ha vissuto questa presentazione del libro come un evento i ricordi erano vivissimi ed è veramente un esempio di integrazione allora quello che voglio dire è che lo scopo della nostra associazione non è fare della storia così per il fine a se stessa e non è nemmeno quello di rinvangare il passato per seminare sentimenti di revanchismo di rivalsa ma invece è proprio quello di evidenziare in questa enorme tragedia che c'è stata perché ha significato appunto infoibati morti gente morta di freddo anche dopo nei campi profughi suicidi che non ce la facevano a resistere alle condizioni terribili che dovevano vivere però c'è anche gente che ce l'ha fatta c'è anche gente che è diventata imprenditrice c'è anche gente che si è integrata che ha lavorato che è diventata qualcuno di importante all'interno delle comunità che li hanno adottati quindi c'è anche un messaggio positivo in questo e credo che non sia solamente un qualcosa che appartenga al passato ma un qualcosa che può anche essere di esempio per il futuro persone che sono diventate orgoglio proprio per il paese per l'Italia insomma ed erano magari non tutti lo sapevano che erano istriani o dalmati penso a Abdon Pamic per esempio il grande campione olimpionico penso a Missoni ma ce ne sono tanti altri sono tantissimi da Mario Andretti a tanti scrittori famosi a sportivi scienziati Bracco che ha fondato l'industria chimica di Milano se ne potrebbe fare insomma un elenco infinito adesso Mila Shen che citavo prima sì a me piace ricordare una persona che è stato un mio amico ma che ha vissuto sempre con qualche disagio questa ambivalenza tra l'italianità e l'origine istriana che era il grande scrittore Fulvio Tomizza il quale mi diceva che lui si sentiva sempre criticato un po' dagli italiani di là perché gli diceva se stavi qua con noi ci avresti potuto aiutare e di qua diversamente insomma per cui anche dal punto di vista psicologico questo essere di terre di confine qualche volta può creare anche delle persone creative come è stato lui ma non in un clima di tranquillità perché resta sempre questo retaggio del tradimento del passaggio della violenza dell'essere costretto eccetera eccetera noi abbiamo soprattutto i ragazzi delle scuole che ci seguono in questi incontri e speriamo di aver dato un panorama storico anche inedito rispetto a tante cose che certamente non ci sono nei loro libri di storia ma se questi incontri possono avere un valore anche civile anche morale insomma vuole rivolgersi direttamente a loro per dire come la sua esperienza e il fatto di derivare da questa storia può essere un viatico anche per un impegno diverso nella società attuale perché quello che mi diceva prima lei della difficoltà dei profughi è un qualcosa che niente di nuovo sotto il sole insomma perché anche gli esuli italiani dopo Caporetto che entravano in Italia per fuggire dall'invasione austriaca dovevano subire praticamente questi stessi questi stessi problemi che lei ha citato per gli esuli istriani e sono tocca dire gli stessi problemi che affrontano anche oggi tutti coloro che arrivano in Italia come profughi o come emigranti ecco le lascio la telecamera beh io credo che si possa riassumere tutto in un'unica parola la parola pace bisogna cercare di convivere di trovare tutte le soluzioni possibili per arrivare alla pace non c'è un motivo per cui se una persona è diversa da me io devo desiderare il suo anientamento si può tranquillamente vivere insieme rispettare le differenze cercare di comprendere l'altro e questa è l'unica soluzione per condividere questo mondo che è piccolo e complicato ma ci offre anche delle cose bellissime da vivere detto da lei è un altro significato grazie grazie a tutti Grazie a tutti.